Sentivo qualche collega dire prima di me che c'è bisogno di immigrazione perché la popolazione europea invecchia e ho una prospettiva completamente diversa. Io penso di essere al governo, di essere pagato dai miei cittadini per aiutare i nostri giovani a tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani per arrivare a rimpiazzare gli europei che per molti gli economici non fanno più figli. Sono due visioni del mondo completamente diversi. Magari in Unsegurgo c'è queste esigenze e in Italia sentiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli, non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più. Quindi siamo assolutamente disponibili a dialogare con tutti. Io non l'ho interrotta cortesemente se lei mi lasciasse finire. Io non l'ho interrotta. Un migrante che ha lavorato in Luxemburgo per che voi in Italia abbiavi l'argento per i vostri bambini. Merda l'ho! Ciao!